Ciao ragazzi, oggi siamo qui in questo nuovo video. Allora, oggi non sono da solo, ma abbiamo un nuovo ospite sul mio canale. Vieni Federico! Buongiorno! Ciao ragazzi, oggi siamo qui in questo nuovo video. Allora, oggi non sono da solo, ma vi presento un nuovo ospite. Federico! Ciao! Ciao! Cosa stiamo a fare qua? Perché io sono qua? Allora, praticamente oggi faremo il primo video con il ragazzo di mia sorella, Federico, e faremo uno spacchettamento di delle figurine, però non sono le classiche, diciamo, dell'Italia, ma sono quelle della Liga Spagnola, voi potete vedere. E oggi apriremo questi cinque pacchetti insieme. Sì, in totale, sì, perché ci siamo andati appunto a Barcellona e Ievale e te ne abbiamo portate qualcuno. Poi vi volevo mostrare la maglietta che mi ha portato sia Federico che mia sorella Latina, nel Barcellona. E oggi andiamo appunto ad aprire queste bustine della Liga Spagnola. Delle Adrenaly. E mostrala a tutti. Allora, qua. Perché hanno preso, diciamo, due tipologie diverse, il suo con dei vari calciatori. Questa è l'altra dell'Adrenaly. E poi abbiamo quelle della Liga, che sono per il cinquantesimo anniversario della Liga. Quindi parto io. Inizia tu, sì. Questa è la tua, questa è mia, vai. Apriamo il primo pacchetto. Vediamo. Avi Martinez Rookie Impact. Ma sei sicuro che non è uno giovane, però? Non lo so. Perché Rookie di solito sono fatto su dei giovani. Perché questo è il primo pacchetto, non capriamo, quindi non sappiamo praticamente niente. Rookie Impact. Vabbè, poi lo scopriremo. Stemma del Rayo Alecano. Cala. Comunque è carino. Sì, sono più grosse delle nostre. Sì, però più o meno è come l'hanno fatta quest'anno, cioè con il giocatore in azione. Sì, quello sì. Vedi. Di nuovo Rookie Impact. Sì, secondo me sono le prime volte che stampano una figurina su questi giocatori. Perché le Rookie di solito sono così. Rookie Impact, Cardenas, Manu Garcia e Osmajic. Non li conoscerò proprio così. Nessuno, però va bene. Fede, vai tu con il tuo primo pacchetto. Va bene, vediamo se troverò anche io qualche Rookie o qualcuno infortunato. Vediamo un po'. Eh. O Yalzabal per iniziare. Molto positivo. Cupone official. Ah, vedi, però tu non c'avevi questo. Vale per... Sombra virtuale. Ah, carte virtuali. Ah, è come... Sì, come il nostro... Però noi l'avevamo sulla serie Citi. No, oddio. Iairo. Un allenatore della Techie Bilbao. Bello, con... Bello. La Las Vegas, Gento. Anche tanto adesso saranno leggende. Sì. Del Realme, tipo. Bello. Il Barcellona, tema. Sì. Siamo andati lì. È l'ultimo. Bardi. Bardi. Bello. È andato bene, dai. Andiamo con il mio secondo pacchetto. Vediamo se troverò anch'io. Andiamo con l'adrenaline. Tanto felicitore della Champions. Allora, Nacho Fernandes. Eduardo Cudet. Del Seltavigo. Del Seltavigo. Scudetto del Seltavigo. Basquets. Altro del Real. Soler. E poi Ancelotti. È bello, Ancelotti è bello. E poi il cupon. È tutto a tema real questo pacchetto. Sì. Ed ora, dato che abbiamo finito i pacchetti di figurine. Andiamo con l'adrenaline. Esatto. Apro io il primo. È l'unico mio dell'adrenaline. Vediamo un po' che abbiamo all'interno. Allora. Carino il design. Bello, sì. Diversa le nostre. Comunque girate anche come le nostre, tutte un po' così. Bello. Chi è? Palon d'or. Vinicius. Vinicius. Ma mi sa che tu player, tipo. Come le nostre top player. Può essere. Sì, 100, 100, 100. Mi sa che hai trovato una top player. Hai visto, è troppo forte. Allora, poi abbiamo Idolo. Bacca. Bacca. Ex Milan. Culli. Ma anche ti hai passato in Italia, no? No, no. Poi abbiamo One Me. È un allenatore, credo, questo sì. Sì. Perché ha disegnato il tecnico. Alessio Lishi e Entrenador. Ma forse Entrenador sarà allenatore. Però comunque questa mi sa che è come le nostre top player. Entrenador sarà allenatore. Idolo si vede perché questa è l'attualizzazione. Sì, sono i vari tipi di carte che hanno Entrenador. È praticamente imbattibile dopo la top player. Poi abbiamo il pallone d'oro e questi invece sono quelli normali. È andato bene come unico pacchetto. Ragazzi, vediamo se sarò fortunato come fede. Apriamo anche il mio. Questo è un... Sì, sono sempre dei fogliettini illustrativi. Promotion. Bello, tipo puoi vincere dei premi. Ma ci sarà il codice, allora sì. Cioè, no. Promotion no. Completo. Allora. Il fogliettino. Barre Ne Ne Sea Diamante. È di quanto d'oro i nostri. Bonu, quanto d'oro, sì. Valiente. Ah, Sergi Roberto. Sergi Roberto. Sempre la tema del Barcellona. Lucas Perez e Pere Mila. Sì. Allora, faccio una cosa. Io ti do il mio Lottaro Martinez o Player e tu mi dai i vinciti. Sì, in un'altra vita forse potrebbero trovarti. Comunque, ricapitolando cosa abbiamo trovato. Appunto, io ho trovato la più bella forse dello spacchettamento totale. L'abbiamo tutte messa in delle sleeves. Sì, dai, faccio vedere io. Rookie. Rookie come figurina. Ah, e poi tra l'altro in questa Adrenaline, volevo farvi vedere una cosa. C'erano anche quelle bis, ossia tipo quelle dei trasferimenti. Ah, aggiunte. Dov'è? Sì, bis qua, in alto. Ah, vabbè, in alto. Vediamo se si nota. E poi abbiamo trovato ancora. Tu hai trovato Ancelotti. Ancelotti. Bono, guanto d'oro. E' un portiere. E io invece ho trovato lo scudetto del Barcellona. Punto. Che è imbussato anche questo a tema del viaggio. E questa leggenda. Gento del Real Madrid. Quindi diciamo che è andato bene. È andato bene, dai. Per avere solo cinque pacchettini. Ora, al prossimo viaggio, chissà dove andiamo, partiamo di nuovo qualcosina. Va bene. La spacchettare tutti insieme. Questo spacchettamento possiamo dire che è andato bene. Molto bene. L'ospite ha sempre più fortuna di me. Però sto turno ai pacchetti, me li porto a casa. Sì, perché tipo mamma mi aveva aperto i pacchetti, mi aveva trovato tipo Ronaldo. Però me lo tenevo io. Invece questa volta, dai, sarei meritato per il primo video. Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!